Buongiorno e bentrovati a Zoom sulla città. Il nostro approfondimento oggi è dedicato ai progetti che si stanno mettendo in campo dopo la firma del patto per Napoli. Ne parliamo con l'assessore al bilancio e al patrimonio del Comune, Pierpaolo Barretta. Bentrovato, assessore. Buongiorno. Nei giorni scorsi la firma con InVimit dell'accordo per la valorizzazione del patrimonio immobiliare e del Comune. Il Comune di Napoli possiede oltre 65 mila immobili per un valore di 4 miliardi. Metà di questi sono patrimonio non disponibile perché riguardano case popolari e quindi non pensiamo assolutamente di conferirle all'accordo fatto con InVimit. Mentre invece una buona parte di questo patrimonio ha bisogno di essere rilanciato, valorizzato e anche immesso nel mercato. Il mercato non è solo la vendita, il mercato è anche le concessioni e anche la possibilità di mettere a reddito. L'accordo con InVimit serve esattamente a questo. InVimit è una società pubblica dello Stato posseduta al 100% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e quindi è un partner affidabile che continua il progetto del Patto per Napoli. Sulla lotta all'evasione che cosa metterete in campo, Assessore? La lotta all'evasione è un grande problema perché come sappiamo a Napoli noi abbiamo un problema di riscossione, di scarsa riscossione molto rilevante. Penso alle multe, abbiamo 880 milioni di multe non pagate, penso alla Tari, sono 770 milioni di Tari non riscossa, quindi uno sforzo fondamentale. Il Comune da solo non ce la fa, quindi faremo un bando nei prossimi settimane per poter avere anche un partner competente, ce ne sono di molte società competenti che ci aiuti a riscuotere, non soltanto a recuperare su quanto abbiamo accumulato queste cifre che dicevo, ma anche sull'ordinaria amministrazione, quindi uno sforzo rilevante che sarà accompagnato anche da un incremento di organici dei nostri uffici comunali, però fondamentalmente quello che conta è il messaggio ai cittadini, cioè i cittadini devono condividere questa novità che noi stiamo cercando di mettere a punto e che serve poi a rilanciare la città. Il piano di risanamento del Comune passa anche per la riorganizzazione delle società partecipate? Sì, abbiamo un impegno col Governo di presentare un piano entro il primo di settembre. La situazione delle società partecipate dal punto di vista di bilancio contabile non è particolarmente preoccupante, diversamente dal bilancio del Comune che invece è in condizioni molto pesanti, ricordo che abbiamo 5 miliardi tra disavanzo e debito finanziario, però sicuramente c'è un problema di qualità dei servizi, di riorganizzazione, di tempistica, di velocità dell'esecuzione, quindi lavoreremo nei prossimi due o tre mesi per predisporre questo piano che dovrà essere tarato sulla possibilità del nostro sistema di partecipate di essere più efficiente e raggiungere più velocemente i risultati. Penso che anche in questo caso si possano pensare a delle partnership. So che c'è una grande preoccupazione sul rapporto con i privati, dobbiamo evitare atteggiamenti ideologici, i privati ce ne sono di bravi e di non bravi, come per le società pubbliche, però prevalentemente noi potremmo lavorare con altre società pubbliche, penso alle società di Stato, dall'Enel, all'Eni alle ferrovie, ma penso anche a tante partecipate dei comunali, dei comuni che sono efficienti e che sono in grado di, assieme a noi, darci una mano per affrontare questa necessaria riorganizzazione. Aumenteranno i tributi comunali? Quest'anno assolutamente no, e questo va detto con chiarezza. Il prossimo anno stiamo discutendo di un eventuale aumento dell'aliquota IRPEF di 1,01, peraltro, quindi sono francamente pochi soldi, pochi spiccioli, però questo è legato al patto per Napoli, nel senso che ricordo che lo Stato ci ha dato 1 miliardo e 300 milioni e quindi una sorta di contropartita da completamento, noi dobbiamo oltre a questo 1 miliardo e 300 milioni che ci dà lo Stato immettere con risorse nostre un 25% aggiuntivo, quindi da qualche parte dobbiamo recuperarli, un po' sarà da questo, un po' dal patrimonio di cui abbiamo parlato prima, la dismissione o la valorizzazione del patrimonio dovrà dare dei risultati, quindi ne parleremo a fine anno. Assessore, il 4 aprile si è chiuso l'avviso ai creditori, qual è il senso di questa iniziativa e che risposta c'è stata? Dunque, il senso è molto chiaro, cioè da un lato realizzare un pagamento, sia pure con transazione, di pendenze vecchie che il Comune ha accumulato in molti anni, il Comune non è un bravo pagatore, ci sono molti ritardi e ci sono quindi anche comprensibili lamentere, questo è il primo aspetto, il secondo aspetto è che facendo questa transazione noi poi chiudiamo delle partite e liberiamo il bilancio da poste che erano lì in sospeso e che costituivano un peso assolutamente non pertinente. La risposta è una risposta interessante, importante, adesso stiamo definendo in questi giorni il numero, siamo tra gli 800 e i 1000 richieste di transazione, sappiamo che questa operazione avverrà con una verifica entro maggio e poi tutti quelli che saranno ammessi alla transazione entro agosto saranno liquidati, quindi il grande vantaggio di questa operazione per i creditori è che si scontano un po' di abbassamento legato alla transazione, però ricevono subito entro 20 giorni dal momento in cui avremo fatto la transazione risorse che da anni aspettano, il vantaggio per il Comune è che chiude le partite, francamente che non ha senso che restino in sospeso. Grazie, grazie Assessore e grazie a voi per averci seguito.